Allora, oggi siamo in compagnia di Sonia Ziveri, Head of Sustainability di Davines. Hanno appena presentato il rapporto sostenibilità 2017-2018 e, essendo una B Corp, la loro missione è quella di fare interdipendenza con i fornitori. Ecco, come li supportate anche per capire quali sono le mosse migliori per instradarsi verso la sostenibilità e verso anche le B Corp? Certo, ovviamente come dicevi è fondamentale ingaggiare i nostri fornitori in modo che siano partner di viaggio e così avere il loro supporto nella realizzazione di progetti innovativi e virtuosi in termini di sostenibilità in azienda. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando con diversi di loro affinché sempre più incarino a loro volta i valori che sono alla base della certificazione B Corp. Non voglio dire che diventiamo un Competence Center ma sicuramente siamo un agente di continua stimolazione e di continua contaminazione. Ci piace all'interno dell'azienda lavorare insieme in modo interfunzionale confrontandoci e valutando quelle che sono le sfide che vogliamo portare avanti e allo stesso modo viene fatto con i nostri fornitori, quindi lavorando insieme e insieme poi ci si entusiasma perché nel momento in cui si vedono dei risultati a loro volta i fornitori hanno voglia poi di cimentarsi nella certificazione che è uno strumento di autovalutazione in primis in quanto il punteggio non è altro che l'indicazione di quanto si è più o meno virtuosi rispetto a specifiche aree di riferimento. Oggi noi siamo alla presentazione del nuovo villaggio Davines, un'area dove effettivamente risponde in maniera molto alta ai concetti di B Corp, anche come condivisione degli spazi. Attendiamo di visitare a breve l'Orto Botanico. Grazie Sonia! Grazie Cristina, buon lavoro!